Come si vive da soli a Bolzano? Questa è una domanda che mi sono fatto molto spesso mentre sceglievo la mia università e oggi volevo raccontarvi un pochino quello che è il mio percorso di questi primi mesi, di tutto quello che ho vissuto, di tutte le cose che vive un normale fuorisede magari e che magari possono aiutarvi se dovete decidere se andare fuori casa o meno o se allo stesso tempo potete magari ritrovarvi se state vivendo via di casa nella mia situazione. Vivere fuori casa è sempre stato uno dei miei più grandi obiettivi, è sempre stato uno dei miei più grandi brame nella vita, uno dei miei più grandi desideri e sono molto contento di questo perché averlo realizzato a oggi, per chiunque non lo sapesse io ho 19 anni, sto studiando comunicazione e cultura a Bolzano, sono un ragazzo di Brescia, faccio tutti i video per chiunque non lo sapesse e non mi seguisse su questo canale, tra l'altro iscrivetevi e praticamente sono a vivere da solo da ormai quattro mesi a Bolzano e la mia esperienza è stata molto controversa. Vi faccio un piccolo recap di quello che sono state le mie scelte che mi hanno portato qua e soprattutto dal fatto che Bolzano di solito non ci viene nessuno e è molto anonima e sconosciuta come università e molti la scambiano per Trento, ma sono due province completamente diverse, anzi non dite a uno di Bolzano e a uno di Trento che li scambiate perché non scorre troppo buon sangue. Comunque passando oltre, io ho intrapreso questo percorso di laurea in scienza della comunicazione perché è quello che vorrei fare nella vita, lavorare con fotografie e video, credo che una laurea come questa mi potesse dare la possibilità di creare una figura di riferimento a tutto tondo e un professionista diciamo completo nel mio ambito, quindi per il momento diciamo che a università ci siamo e ho deciso di farlo lontano da Brescia, l'ho deciso di farlo lontano da Milano, ho deciso di farlo lontano da Bergamo per il semplice fatto che sì è vero scienza della comunicazione, c'è un po' ovunque, però molto spesso sei un numero, sei uno su una stanza composta da 400 persone e sei lì che prendi appunti, che fai, non hai un contatto diretto magari con l'insegnante, a livello di ambiente non sei tutelato, il vivere fuori casa, trovatelo voi un affitto decente a Milano, comunque io non è che ci abbia milioni, anche quello ha fatto il suo, diciamo quindi che ho optato per questa università, in corso siamo in 40 ragazzi, cioè in 40 studenti perché poi di ragazzi siamo veramente pochi, c'è possibilità di contatto con un professore, c'è possibilità di vivere l'ambiente universitario conoscendo bene i tuoi compagni, c'è la possibilità di crescita, di avere uno stage decente, di vivere in un posto dove le cose obiettivamente sono molto diverse da Brescia-Milano e l'ambiente a cui sono abituato io. Vivere fuori casa sicuramente è un bell'aspetto molto fondante della mia scelta perché come vi dicevo prima è stato uno dei miei desideri più grandi, non perché volessi andare via di casa perché io a casa stavo da Dio, ho un rapporto bellissimo con la mia famiglia, ho un rapporto bellissimo oltre che con i miei genitori, io a piedi diciamo che arrivo dai miei nonni, arrivo dai miei zii, a 5 minuti in macchina arrivo dagli altri miei nonni, ho gli amici di una vita, la ragazza, quindi c'è veramente andare via di casa. Diciamo che non è che fosse tutta questa grandissima, però sulla carta diciamo che ci perdevo tanto, però ero convinto che avrei guadagnato qualcosa. Adesso vi spiego se effettivamente è andato così. Amici, ovviamente inutile dirvi che per parlarvi bene di questa cosa vi porto sulle montagne con me. Allora sarò sincero, questo è uno dei miei posti preferiti, anche se non ci vengo molto spesso, praticamente dal centro di Bolzano si prende la funivia, quella che ho appena preso si vede tutto questo bellissimo panorama e praticamente in 10 minuti, un quarto d'ora, sei su. E questo posto ci sono venuto poche volte perché mi piace centellinare le cose che mi piacciono, però credo che sia il posto perfetto per raccontarvi un pochino com'è la mia esperienza, come sono state le mie cose, tutte le mie vicissitudini, con dietro un panorama di questo tipo che è assolutamente fantastico, con tutte le montagne. Allora, diciamo che nella mia esperienza ci sono tantissimi pro, tantissimi conto, l'andare a vivere da solo, come vi raccontavo prima, è stato sempre uno dei miei più grandi obiettivi, è sempre stata una cosa fissa nella mia mente perché andare a vivere da solo in giovanità secondo me comunque può aiutare e infatti ci sono tantissimi pro nella mia esperienza di questi primi mesi perché comunque mi ha aiutato ad avere consapevolezza di me stesso, consapevolezza di quello che potevo fare, consapevolezza anche del fatto che so gestirmi e organizzarmi a livello di impegni, a livello di soldi, a livello di gestione di me stesso e la libertà che guadagni rispetto all'andare, rispetto al vivere con i tuoi, all'essere un po' dipendente da loro è sicuramente un aspetto fondamentale, è un aspetto che secondo me ti dà tantissimo, cioè proprio a livello di crescita, a livello di esperienza e tutto ti dà veramente veramente tanto. Ovviamente ci sono anche degli aspetti negativi, ovvero il fatto che io sono arrivato qua, non conoscevo nessuno, assolutamente nessuno, c'è proprio zero e mi sono fatto tutti gli amici con l'università, ho cominciato a conoscere tutte le persone tramite l'università, ma con la scusa che siamo tutti fuori sede, cioè almeno la maggior parte della gente che studia a Bolzano non è di Bolzano, molto spesso tu sei il sabato sera che non c'è nessuno perché la gente torna a casa, perché la gente se ne va, perché ha gli impegni a casa, perché torna dalla famiglia, perché vengono i genitori a trovare da casa fino a qua, quindi magari quelle persone non possono uscire, e quindi insomma ce ne sono state tante di cose in questi mesi che mi hanno fatto dire wow, ma qua, cioè si sta meglio il martedì sera che il sabato sera ed effettivamente è così e molto spesso ti senti anche molto solo perché vedi magari le amicizie che hai lasciato a Brescia che si divertono come un normale sabato sera, mentre invece magari tu sei a casa da solo, nel letto, già alle 10, perché non hai assolutamente niente da fare, perché comunque il divertimento è più infasettimanale che poi a fine settimana. E quindi anche questo non è una roba da poco. Poi successivamente diciamo che ci sono tantissime altre cose, tante cose sono sicuramente il fatto che vivere da solo ti aiuta a crescere sotto un punto di vista emotivo, a me ha aiutato tantissimo, io mi sento veramente cambiato in questi primi mesi per il semplice fatto che l'andare via è stato sì bello, è stato sì una figata, però ho sofferto un po' tanto non l'essere andato via di casa, ma il fatto che molto spesso mi sentissi veramente veramente solo e il fatto che molto spesso tantissime persone che io ritenevo importanti a Brescia per me non ci siano state, ci sono tantissime, ma tantissime persone che io ritenevo veramente veramente importanti che non sento da settembre quando sono partito. E sono tornato a Brescia tante volte per lavoro, per vedere la mia famiglia, per vedere degli miei amici, per, 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 ma alla fine ho perso veramente i contatti con tantissime persone ed è un peccato perché mi ha fatto rendere conto che le amicizie, tante amicizie che io avevo costruito in questi anni, alla fine erano molto molto circostanziali, molto molto superficiali e questo è un peccato perché tu pensi di aver costruito qualcosa di importante, di interessante, di bello e poi alla fine scopri che sia importante, sia interessante, sia bello, però fino a un certo punto. E queste cose qua, diciamo che molto spesso ci stai, ci stai male. Nel mio caso io ci sono stato molto molto male. A ottobre, novembre, soprattutto ottobre, mi sono trovato completamente da solo. è stato veramente, veramente difficile per me e ho capito che certe cose, come le approcciavo, come avevo l'approccio alla vita, non andavano bene, non andava bene come mi relazionavo con le persone, come a volte tenevo le mie cose un po' troppo per me e questa cosa è stata una cosa che mi ha fregato, che mi ha tolto la possibilità di vivere a pieno magari delle esperienze anche a livello affettivo che potevo vivere meglio invece. Però mi sono bastati quattro mesi per capire una cosa che in quattro anni non avevo mai capito. È triste da dire, però l'aver perso certe persone o comunque aver rivisto, diciamo, aver rivisto la scala di importanza di certe persone sicuramente mi ha aiutato molto a capire anche il fatto che io avessi sbagliato con quelle persone perché non è che sono stronze e hanno detto giorno lo voglio più sentire ma molto spesso ho creato io stesso sono stato io in primis a creare un rapporto circostanziale e questa cosa è stata di aiuto è stata un'esperienza di crescita è stata veramente veramente importante per me e sono sicuro che poi con il tempo si metterà tutto a posto con queste persone già adesso comunque con questa consapevolezza con il fatto che ho avuto tanto tempo per me il fatto che abbia avuto tanto tempo per fare quello che mi piace ma anche solo per pensare riflettere e crescere è veramente un'esperienza ed è veramente un pregio che magari a Brescia non avrei mai avuto non perché sono a Bolzano ma perché anche se fossi andato a vivere da qualche altra parte probabilmente avrei riscontrato lo stesso scenario lo stesso problema ecco quindi veramente è difficile vivere da soli è difficile come esperienza è difficile come scelta è difficile lasciare e fare un salto nel vuoto perché comunque per me è stato un salto nel vuoto però sicuramente ci sono tantissime cose che vi aiutano e che a me almeno non è vero che vi aiuteranno per forza ma che a me hanno aiutato veramente tanto quindi chiudendo così chiudendo in 4K con tutte le mie cose con la Sony che mi sono portato dietro per fare alcuni scatti che se sono venuti bene adesso vi metto un po' in sovrimpensione e basta vivere da solo per me è stata veramente una grande cosa è stata veramente un'esperienza che mi ha cambiato mi sta cambiando e pensare che continuerò questa grandissima esperienza per i prossimi tre anni e spero tre anni qua a Bolzano è veramente veramente una cosa incredibile è veramente veramente una cosa che mi dà molte soddisfazioni ci tenevo perché allora so che nessuno guarda cioè nessuno guarda i miei video nessuno delle persone che sto per menzionare che sto per ringraziare in questo momento guarda spesso i miei video però per me è importante ringraziare comunque e loro lo sanno le persone che mi sono state vicine invece in questo periodo ringraziare comunque la mia famiglia per le possibilità che mi ha dato perché so che non è una cosa per tutti quindi i miei genitori ho fatto tanti sacrifici per portarmi qua io stesso ho lavoricchiato per potermi permettere certe cose che mi sto permettendo qua e sono veramente veramente contento sono so di essere fortunato so che non è una cosa da poco so che avere accanto le persone che ho avuto accanto in questi mesi non è una cosa da poco quindi sono veramente veramente molto contento però questo approfondiremo tutto l'argomento nel video di summing up di questo 2023 che è stato veramente veramente matto in questo momento io vi lascio qua vi lascio tra le montagne me ne vado e adesso sono a casa vado a mangiarmi qualcosa e sono veramente veramente contento in questo periodo adesso si avvicina al Natale ho fatto il mio primo esame ho fatto gli esami in tedesco devo dare un altro parziale di statistica giovedì prossimo prima di tornare a casa insomma sarà tosta sarà dura ma sono veramente veramente contento adesso il canale sta andando bene ci vediamo nel video sul 2023 ci vediamo con quello che è stato quest'anno un saluto a tutti grazie per essere stati con me oggi e buona vita tanti saluti tante belle cose ci vediamo